ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video sono con maury siamo alla phone pit e oggi ne approfittiamo per svelarvi un nuovo giorno oggi è un flip day un giorno inventato da cigno e facciamo un mini contest privato vediamo chi sarà il più forte paio di premi best trick best flip best rider e best file vediamo chi butta il salto più guasso quindi tante aspettative per questo giorno è stata aumentata all'altezza della phone pit ora il quarter anzi con una rampa normale triplicato di altezza il piano è più largo c'è il roll in una parte di dietro mini salottino per giudici le scale per uscire questo è il roll in questa è la nuova parte che passa dietro una rampa piano un altro bank che ti porta in discesa di nuovo al quarter come ci si sente al primo salto man è sporco dai ricky grande grande è morto voi ci aspettatevi della giornata casamento pesante man costruendo i premi il giorno del flip day mi dicono di lasciarlo rosso io l'avrei fatto a nero il corto sbam capito lo spacchi voglio giarlo piegarlo così abbiamo il best fail io mi sentivo che il best file ha da fare qualche skate si sta bagnando il culo sentivo che c'era qualcosa di skate nel best file no 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 andiamo a cautelizzarli la ferita no no dio le case special al vino fuoco lanciato tipo così non mi coglioni unica è muoio di cavo non lo usiamo per la carne non so sicuro però fermo il tocco si è una sacca a poche mi hai andato da come si chiama con la pasticcera che c'è a cagli ai potenti sono una bella farfalla carne cuoco ricchi lasagne formaggio salano dai lascia devi goderti le azioni spontanee perché non saranno mai uguardo non stiamo mangiando troppo il nome del padre del picco sti scemmo menne l'ho presa che è successo? birra asciughiamo ecco il flip day del pomeriggio anche questa è plastica non mi c'è mi c'è mi c'è mi c'è mi c'è mi c'è siamo tutti pieni questa è tutta la gente che sta saltando è tutto è una paella che è una paella è una paella che ha piuttosto è un po' Vai, cazzo! Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Best Line per il miglior rider che ha sfruttato al meglio il nuovo park in Cilio Park Gabriele Foneso Una delle emozioni più forti della serata Wow il premio per Best File Grazie a tutti Best Flip e Best Rider se li merita tutti e due e Simon Grazie a tutti Il padrone di casa ormai Numero trick esagerati Miglior trick Flip one hand Chiuso alla perfezione Grazie a tutti Grazie a tutti Oh ma la bottiglia di regalo per il best alcolizzato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti